Presidente, ce l'avevamo lasciati prima di Natale con Sasa Basile e ci ritroviamo oggi con Pavenel, quindi è un qualcosa che l'associazione veramente si muove, si dà da fare proprio per comunicare, per coinvolgere i propri testerati. Si cerca, nei limiti del possibile, di fare più serate possibili per dare la possibilità di confrontarsi continuamente con persone di vario livello e il confronto credo che sia l'arma migliore per cercare di migliorarsi e nel confronto si migliora, questo è senza dubbio. Certamente questa sera Pavenel ha dato tanto ai vari allenatori presenti a questo convegno tecnico. Questo ha dato tanto e ha fatto capire anche che tipo di persona è e solo una persona così poteva essere riuscita a tenere alto il nome dell'Arezzo e far rispettare questa squadra perché con mille e una difficoltà che ha avuto, se non era un buon psicologo, oltre che un grande preparatore, un grande conoscitore di calcio, penso che non gli sarebbe stato possibile fare questi risultati. Adesso l'appuntamento, il prossimo appuntamento è il 21 maggio per il premiare Semplice, un altro allenatore emergente. Altro allenatore emergente, molto bravo e quindi ho piacere che la scelta sia caduta su lui perché è una nostra vecchia conoscenza e ha dimostrato sul campo di sapere fare perché riportare una squadra alla C2 direttamente in Serie A e ora puntare alla salvezza che l'ha quasi raggiunta e questo sta a dimostrare lo spessore della persona. Grazie Presidente, buon lavoro.